Io penso che abbiamo fatto una grandissima partita a Vicenza, che la partita ce l'ha fatto perdere l'arbitro, perché a noi al primo tempo non ci hanno dato un rigore nettissimo, invece a loro hanno dato un rigore molto dubbio e penso che l'arbitro si è fatto molto condizionare dallo stadio e dal pubblico. Sì, abbiamo fatto una grandissima partita e abbiamo la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutte le squadre. Vabbè, prima o poi il gol arriverà, dobbiamo essere un pochetto più cattivi là davanti, ma tutti quanti, non solo gli attaccanti. E niente, abbiamo fatto una grandissima partita a Vicenza. Qualcosina, sì, ma come tutti al primo tempo siamo andati un pochetto in difficoltà su alcune situazioni e penso che al secondo tempo, andandoli a pressione un pochetto più avanti, li abbiamo messo noi in difficoltà a Vicenza. Abbiamo fatto meglio il secondo per il primo tempo. E loro la partita la potevano vingere solo così, sul rigore, su un calcio piazzato. Finalmente, sì, dopo due mesi riusciamo a giocare davanti ai nostri tifosi e penso che domenica ci daranno sicuramente una spinta in più per i tre punti. Io penso che il primo inizio due settimane fa qua a Mestre. Penso che noi dobbiamo fare bene sia in casa che fuori, senza darci limiti. Dobbiamo fare partita dopo partita, sempre per i tre punti. Grazie. Grazie.